Sindaco Serfilippi, questa notte è stata fatta la quarta disinfestazione del territorio comunale, si sono privilegiate le frazioni e i quartieri periferici, quindi continua l'impegno dell'amministrazione comunale contro la Zanzara Tigre, contro la diffusione della Zanzara Tigre. Ci sono zone sensibili che vengono così attenzionate in modo particolare? Beh, per la verità sono tutte attenzionate, nel senso che stiamo facendo questa quarta disinfestazione massiva in tutta la città, come è nel piano nazionale contro l'arborvirosi, quindi contro la Zanzara Tigre, quindi insieme all'azienda sanitaria territoriale, quindi l'Ast Pesor Urbino e anche l'istituto zooprofilattico, abbiamo ritenuto opportuno fare questa quarta ed ultima disinfestazione perché sostanzialmente le due settimane di giacenza delle larve per schiudersi permettono con la nuova disinfestazione di fondamentalmente azzerare completamente la presenza delle zanzare. È chiaro, da sotto gli occhi di tutti, che anche grazie all'abbassamento delle temperature le zanzare stanno scomparendo, quindi penso che il problema sia quasi definitivamente risolto. È chiaro che io continuo a invitare i cittadini a collaborare e quindi fare la loro parte, ad esempio eliminando tutti i ristagni d'acqua nei pressi delle abitazioni, comprare le pasticche all'arvicida per inserire all'interno dei tombini, fare tutte quelle norme e quelle buone azioni che l'Ast comunque consiglia di fare e quindi l'invito a fare altrettanto, noi lo faremo alla nostra parte all'interno delle sedi comunali e chiediamo di farlo anche nei suoli privati. Alcuni cittadini temano la situazione del canale Albani, com'è invece la situazione del corso d'acqua? Sì, allora, la situazione del canale Albani abbiamo invitato Enel prima a fare la disinfestazione al dutticida nelle settimane scorse ed è stata effettuata. Abbiamo chiesto, quando c'erano i ristagni d'acqua nella scorsa settimana, di fare un'azione all'arvicida con le pasticche ed è stata effettuata. Abbiamo chiesto in questi giorni che pioveva di aprire la porta a Cerbara, quindi dove entra l'acqua, per far defluire tutte le eventuali larve presenti lungo il canale Albani. Adesso hanno richiuso la porta d'ingresso dal fiume, però continueremo a monitorare la situazione. Se servirà, Enel è sempre stata disponibile a collaborare con il Comune. Quanto è avvenuto, Sindaco? Cambierà gli interventi dell'amministrazione comunale per il prossimo anno? Direi assolutamente sì. È importante fare un'azione all'arvicida da aprile, anche marzo, aprile-maggio, che sono i mesi in cui le zanzare iniziano a proliferarsi, quindi a evitare la proliferazione di zanzare. È fondamentale in questo comunque l'azione che dovremo fare a livello comunicativo con i cittadini, quindi le azioni preventive che dovranno essere messe in campo sia dall'amministrazione comunale che dalla cittadinanza.